ragazzi ciao sono patrizia benvenuto welcome per gli amici allora oggi vi faccio una lezione di ceramica terzo fuoco vi faccio vedere una semplice decorazione su un pezzo di ceramica che adesso vi farò vedere è una targhetta da porta e vi farò vedere come si realizza l'occorrente e le semplice regole da rispettare o comunque da fare per poter avere una buona una buona mano un allenamento mettiamoci all'opera perché vi spiego intanto i materiali che ci vogliono abbasso la telecamera scusate ecco ragazzi qua vedete un pennello a punta lo sgarzino viene chiamato così per togliere del colore in eccesso una matita grassa la spatolina il medium universale il medium serve per amalgamare il colore che in polvere la polvere in questo caso ho preso il verde la lavanda che serve per ritardare l'asciugamento del colore la trementina che io ho messo in un barattolo ma in realtà si manifesta in queste bottigliette per pulire il colore iniziamo inizio adesso con la miscelazione del colore quindi poi prendo un po di colore verde in polvere questi oggetti quando sono poi finiti da decorare devono essere cotti in un forno a 740 760 gradi metto il mio medium universale tutti questi materiali sono reperibili in colorifici di belle arti metto un goccio di colore di scusatemi di medium nel colore l'impasto deve essere bello denso come se fosse un dentifricio perché la lavanda che io metto quando finisco il lavoro nella giornata nei colori che adesso vi farò vedere che io ho già preparato serve per diluirla diluire il colore quindi è bene fare il colore denso ok questo è il mio colore vi dicevo che finisco di mettere la lavanda nel nei miei colori quando finisco di decorare perché io faccio questa questa tavolozza di colori dove abbino i verdi uno vicino all'altro se avete notato i gialli i rossi questo perché perché quando io metto il pennello nel giallo se io esagero nel nel miscelare il mio il mio colore se vado nell'altro di giallo non preclude nulla diverso è se io col giallo vado verso il viola mi cambia il colore quindi è un modo è una tecnica per non sporcare i colori una volta che ho messo il colore nella mia tavolozza mi appresto a fare quel lavoro di cui vi dicevo le foglie io adesso farò le foglie in questa piastrella una piastrella classica bianca che io uso come prova la tecnica della decorazione è una tecnica che richiede molta pazienza e molta molta pratica quindi la pratica è cercare di fare più esperienza possibile anche in una piastrella come questa l'esperienza di cui io vi parlo questa allora io ho messo un po di lavanda in questa ciotolina perché mi serve per umidificare il pennello per renderlo morbido una volta che ho messo il pennello nella lavanda lo intingerò nel mio colore in questo caso io vi sto facendo vedere le foglie poi dei piccoli fiorellini voi non so se avete in mente ma sicuramente lo avete come sono le foglie hanno il loro gambo e la loro punta ovviamente le foglie possono essere diverse ma questa è quella base io avendo messo il colore il pennello nel colore adesso inizierò la mia decorazione della foglia inizierò dal centro verso l'esterno quindi dal centro verso l'esterno faccio una sorta di virgola se vedete che il colore non scivola vi consiglio di mettere un po di lavanda dal centro verso l'esterno faccio un'altra virgola dal centro verso l'esterno un'altra e poi quella dritta finale rifaccio anche dall'altra parte quindi dal centro vediamo se riesco a farvi vedere dal centro verso l'esterno una virgola dal centro verso l'esterno un'altra dal centro verso l'esterno un'altra ancora un'altra e poi quella finale dritta faccio il mio gambetto e il mio lavoro della foglia è finito adesso ve la faccio rivedere però senza la matita quindi metto il mio colore prendo la mia piastrella per farvela vedere traccio una sorta di riga che è quella centrale della mia foglia parto dal centro schiaccio vado verso l'esterno e rientro schiaccio e faccio queste forme di virgole queste che voi avete visto qua in questo caso io ho messo troppa lavanda vedete come si è amalgamato il colore perché sono in una posizione non particolarmente felice allora riprendo il mio colore e rimetto il tutto in dima come dico io metto il verde dall'altra parte quindi parto dal centro verso l'esterno un'altra virgola dal centro verso l'esterno un'altra virgola un'altra ancora un'altra ancora un'altra ancora un'altra finché io ho il mio lavoro questa è la foglia una volta che ho fatto questa foglia le tecniche che vi dicevo e la grande capacità è di fare esercizio quindi vuol dire che io devo prendere il colore in questo caso prendo il verde e cerco di fare questo esercizio che mi serve per fare le foglie delle virgole facendo così una vicino all'altra riempite tutta la piastrella perché queste virgole sono quelle che voi poi vi permettono di fare la foglia vedete quindi l'allenamento è alla base di questo di questa decorazione di questa tecnica una volta che ho fatto questa foglia quello che io vi volevo far vedere era come fare piccoli decori in questo caso non so una violetta sempre con questa tecnica del puntare e schiacciare quindi punto quasi in verticale poi schiaccio prendo di nuovo il colore punto in verticale poi schiaccio punto in verticale poi schiaccio io la violetta ce l'ho già in mente quindi probabilmente a voi sarà utile prendere un disegno giro sempre il pezzo avete notato una virgola verso l'esterno una centrale e una verso l'altro ok questo è uno adesso io devo fare con lo sgarzino questo si chiama sgarzino delle virgole proprio per togliere un po il colore non so se vedete perché la viola se voi la guardate appunto queste parti bianchi bianche scusatemi e il giallo qua come un po di rosso al centro questa è se l'allenamento l'avete fatto vi accorgerete come adesso servirà per fare questo io adesso cancello tutto vi chiedo scusa volevo farvelo vedere qua ma invece le faccio qua io immaginate che qua faccio una viola quindi prendo una due mettoci metto anche un po di blu perché la viola proprio questi colori un po cangianti ha dei colori bellissimi la viola le mie pennellate se avete notato sono una vicino all'altra adesso con lo sgarzino che vi dicevo io faccio una sorta di piccole virgole le vedete perché sono quelle che io riempirò col giallo al centro se andate a vedere una viola ha del rosso quindi io faccio del rosso e sempre un po di scuro un po di nero perché le viole hanno dei colori pazzeschi bellissime queste sono le pennellate semplici le più banali poi io apro il pennello così e miscelo un po il colore perché magari non sono soddisfatta proprio delle perché a me non piacciono quelle righe troppo rigide ok mi piacciono un po sfumate nulla di male se andate fuori come in questo caso perché io ovviamente sto dipingendo per farvi vedere potete con la trementina il pennello pulire quindi potete pulire con il pennello e la trementina adesso giro il mio pezzo perché vi volevo far vedere come fare quelle sorti di riccioli e gambetti che la viola tende ad avere vedete sono quasi in verticale non so se notate io adesso riparto di qua e faccio una sorta di guardate le mie virgole così potranno sembrare banali ma guardate adesso con il viola sempre come questo risulterebbe poi un eventuale bocciolino della viola ok una volta che abbiamo questo andiamo a fare quelle famose foglie che vi ho fatto vedere inizialmente se voi avete ovviamente fatto un po di pratica la foglia come vi dicevo è col gambetto in questo senso vi faccio vedere se riesco parto con la virgola una due tre da questa parte una due tre e quattro questo è il mio la mia foglia posso schiarirla guardate con la trementina come riesco a schiarirla vedete le mie virgole sono sempre le stesse dal centro verso l'esterno ma io l'ho voluta schiarire adesso qual è l'astuzia per dare un po di profondità perché bisogna darla no una volta che ho fatto la mia foglia metto una sorta di riga centrale e traccio delle piccole righine che risultano la la venatura della foglia ne farò un'altra di qua quindi io sono adesso sto facendovi vedere la pennellata quindi sono messa un po male una virgola ecco quando vedete che non va il colore andate a prenderne altro miscelate perché insomma non è che subito viene la dosi giusta nel pennello una virgola dal centro verso l'esterno dal centro verso l'esterno dal centro e così via una e adesso l'altra cambia un po' di colore una due tre e quattro questa è l'altra vedete ora la cosa che devo dirvi che dovete comunque imparare è la pulizia quando vedete che un gambetto è troppo troppo rigido troppo grande la pulizia è essenziale come si fa? come vi dicevo pulendo il pennello nella trementina e andando a rifinire quindi pennello nella trementina spero che il video si veda bene perché se no lo rifaccio con un altro e vado a correggere alcune particolarità come appunto questa vedete che si può riprendere cioè non c'è problema se ovviamente c'è un po' di pratica non è che uno nasce come diceva mia madre imparato quindi e l'altra cosa che vi chiedo quando vedete un disegno è far finire tutti i tralci quindi questo è uno della viola centrale poi il gambetto dell'altro che va a finire qua io come avete visto anche qua ne farò un altro parto da qua e giro il mio sempre il mio tralcio di qua magari vorrò fare un altro un altro petalino un'altra violetta che cade in questo senso e lavoro così ok? qui metto quest'altra foglia in questo spazio che mi risulta vuoto faccio un'altra foglia qua una la giro da questa parte sempre dal centro verso l'esterno metto poi un po' di scuro per dare quella sorta di profondità quindi una righetta qua proprio in verticale e tre lineette così qua tralcio la mia il mio rametto e io ho un'altra foglia non so se vedete spero di essere stata utile io ovviamente so 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 per certo che non subito viene fuori ma se voi fate l'allenamento con il mignolo e con la punta del pennello quasi in verticale schiacciando facendo tutte queste virgole che se anche non vi dovessero venire bene non importa ma se ne fate tante 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 vi servirà per capire la pressione del pennello sulla piastrina sul pezzo in ceramica su quello che avete una volta che avete fatto questo poi verrà ovviamente la piastrina verrà cotta e ci sarà magari in questo caso il nome delle persone perché questa è una targhetta da porta quindi verrà poi scritto il nome della persona ragazzi questo è stato un piacere spero che io possa essere stato utile ciao ciao